In realtà per salvare un po' di articolo 18, quel poco che rimane dopo la riforma Fornero, è contro le strumentalizzazioni che il Premier sta continuando a ribadire su questa materia. Non c'è bisogno di rompere, non c'è bisogno di buttare via anche i valori e i principi della nostra storia, c'è bisogno invece di trovare una posizione che possa rappresentare tutto il PD. Non che trovi l'entusiasmo sfrenato di Sacconi, invece l'umiliazione o la preoccupazione di molte delle nostre ragioni.